Caldo fuori stagione negli ultimi giorni sul Vicentino, temperature estive in montagna, tardo primaveri limpia nuora. Ecco alcuni tra i valori massimi registrati nella provincia, Campogrosso 18 gradi, Asiago 23, Vicenza 24, Lonigo 25. Dopo qualche giorno di tempo stabile una bassa pressione andrà a isolarsi sull'alto mar Tirreno, determinando un peggioramento del tempo a metà settimana. Martedì la mattina sul Vicentino il sole sarà offuscato da nubi a pisaglie di una perturbazione in arrivo da nord-ovest che porterà le prime precipitazioni in tarda serata, estremi termici in pianura tra 14 e 23 gradi. Mercoledì giornata perturbata e fenomeni più intensi anche sotto forma di rovescio temporale la mattina, nel pomeriggio le precipitazioni saranno più deboli e discontinue fino ad esaurirsi verso sera, neve sulle città cime più alte oltre i 2000 metri. Giovedì bella giornata di sole sul Vicentino caratterizzata anche dalla visibilità ottima, temperature in rapido aumento con massime che riporteranno oltre i 20 gradi tutta la provincia. Un campo di alta pressione andrà a coprire nel fine settimana tutta l'Europa centro-occidentale, questo garantirà sulla provincia di Vicenza un bel tempo, temperature ben oltre la media. Grazie. 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 Grazie.